Mi spiega come fa a essere una legge fascista fatta da quelli che rischiano di perdere? Cioè noi saremmo fascisti dal fatto di una legge che avvantaggia i nostri avversari. È ridicolo, è assurdo. Travaglio dice o siete deficienti o avete un piano. E immagino che sia la seconda. No, vede, io dico questo. Travaglio non se la prenda con noi. Ecco, rispondo a tutti. Non mi farei nervosire Piero. Ma per carità. Tanto poi dimentica. Poi Travaglio viene dal FUA, io vengo da tutt'altra storia. Quindi ognuno sta sulla sua barricata. Cos'è il FUA? Travaglio è stato nel fronte universitario fascista. Travaglio viene dall'altro. Travaglio stava nei due fascisti. Esatto, viene dal FUA. A Torino. Pienamente ha diritto di farlo. Quindi solo per dire che stiamo sul fronte molto opposto. Non c'è possibilità di confusione. Vi siete scontrati anche... No, ci scontriamo spesso. No, dico, quando hai tempi... No, 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 sul FUA. Detto questo, detto questo... Ci dissociamo da tutto comunque. Grazie. Grazie.